E' questo, ma non possono dirlo perché se dicessero questo, se arrivassero a dire che mi vogliono buttare fuori perché io ho fatto una battaglia di ragionità all'interno del Movimento 5 Stelle, beh insomma è un po' difficile da gestificare a livello mediale. Allora ci hanno provato in questi giorni a dire quali sono i motivi, si è presa l'impegno una di queste, che è una che forse è del cerchio magico, non so dire da chi, ma è una conosciuta nel Movimento, sia Mediana a Bego, la quale ha realizzato, e questo è per le rifiutte perché fanno parte, ma forse questa no, perché è una pagina chiusa, io l'ho avuta perché qualcuno da dentro è riuscito a farla vedere, questa qua dice esattamente una serie di dati, di contesti, che sono probabilmente quelli che vogliono far passare come motivazioni per la mia escursione. Allora, questa dice, richiesti, allora, prima con la chiusura, ovvero sono cominciati, sono arrivati negli anni i fatti, che sono la chiusura del metà di gestione dell'imperia, quindi io avrei chiuso un metà di imperia, poi avrei espulso la candidata, con l'espulsione da parte dei partecipanti, ah ecco, avrei, non avrei fatto candidare alcune persone nella vista Civo nel decimo senso. Poi, con la mia uscita in cui spennevo la consigliera comunale Caraglorio nel decimo senso, con il mancato rispetto del regolamento, quando ho detto di votare Paolo De Mare, in maniera pubblica, alle regionarie, poi vi dirò, e poi in ultimo, secondo lei, in ultimo, solamente alla licenza di Macotta. Allora, andando per ordine, non gli rispondo io, gli rispondono delle persone, quindi degli attivisti che sapevano molto meglio di lei, che mi ha andato a lezione delle cose.